e questa volta con le 500 abbiamo voluto esagerare abbiamo preso una limousine perché oggi mi sento estremamente elegante mi sento ho voglia di farmi portare in giro ed è questa la trasformazione che è stata effettuata per questa meravigliosa 500 guardate com'è stata rifinita in tutto e per tutto ed è estremamente particolare la lunghezza è notevole stiamo parlando di una vera e propria limousine ovviamente per i grandi avvenimenti oppure per persone come me che si vogliono far portare in giro senza guidare in estrema comodità magari in tenera compagnia